Ma guardate lo spettacolo, i telefonini accesi per questa notte di stelle, l'avevamo detto, il sorriso del Presidente della Repubblica Sergio Marcadella, ma guardate l'emozione perché questa è veramente da brividi, le stelle ci sono, non ci sono in cielo ma ci sono all'interno del foro, fantastico. Ma questa è la grande capacità che la pallavolo ha di dare emozionalità, ci sono 12 stelle in campo ma ci sono ovviamente le stelle del pubblico che danno energia, c'è un momento di festa unico direi ed è uno sport veramente meraviglioso.